Ancora benvenuti a tutti, io sono Lorenzo Curti, Vendor Manager per Palo Alto Networks in Exclusive Networks e con me ci sono Roberto e Paola che terranno il webinar insieme a me, quindi ciao ragazzi, vi lascio presentare Ciao a tutti, sono Roberto Maina, sono System Engineer, quindi la parte tecnica in Exclusive Networks seguo Palo Alto tra i vari vendor di cui sono anche trainer certificato da tre anni a questa parte. A te Paola. Buongiorno a tutti, sono Paola Basile, il training manager di Exclusive Networks, io mi preoccupo di costruire tutti i percorsi formativi per i nostri partner che hanno bisogno di acquisire competenze relativamente ai vendor che distribuiamo e non solo. Possiamo partire Lorenzo, ok? Yes, dai, quindi possiamo, finiti i convenevoli, possiamo partire. Allora disattivo questa per la banda e andiamo con il partner program di Palo Alto Fiscalier 24. Allora questo è un altro di una serie di webinar che abbiamo già fatto su questo tema, ne facciamo diversi, primo per la delicatezza e l'importanza dell'argomento visti i nuovi cambiamenti che sono stati introdotti e anche visti aggiornamenti in realtà continui che ci sono stati o quantomeno alcune novità rilevanti dell'ultimo, realtà degli ultimi giorni. Quindi con questo webinar se c'è qualcuno che ha seguito anche qualcuno dei precedenti, in realtà ci sono delle novità aggiuntive che però vanno a semplificare il percorso di certificazione dei partner. Andiamo subito a vedere un po' più nel dettaglio. Come si configura il partner program a livello di livelli, scusate la ripetizione, di partner, i partner registered sono quelli che sono di primo ingresso, ovviamente senza nessuna particolare requisito, gli innovator sono partner che sono focalizzati su almeno una delle tecnologie a Palo Alto, i platinum sono partner che invece hanno un expertise più ampio su più tecnologie a Palo Alto e i diamond invece sono quelli ovviamente con gli skills più profondi su varie tecnologie a Palo Alto e che sono anche solitamente spesso in grado di fornire servizi gestiti. Quali sono i benefit per diversi livelli di partnership? Andiamo a focalizzarci un pochino su quelli che sono le cose più salienti perché la parte dei corsi e dei technical training che sono disponibili per tutti nonché la possibilità appunto di conseguire specializzazioni su tecnologie verticali è comune a tutti i livelli di partnership. Cosa cambia di particolarmente rilevante? Innanzitutto che per il registro ed innovator non c'è un channel business manager né un field marketing manager dedicato da Palo Alto, quindi i partner registro ed innovator si devono rifare al distributore per questo genere di supporti. L'altra differenza che sicuramente è quella forse più concretamente tangibile è quella della scontistica che chiaramente sono crescenti al crescere del livello di partnership. La di registration è possibile effettuarla per qualsiasi livello, tuttavia un extra 8% è erogato soltanto per partner innovator Platinum e Diamond. Possono godere di expertise rebate di cui vedremo dopo il dettaglio sia dai registered ai Diamond mentre non possono godere degli opportunity rebates i partner registered. Quindi dopo vedremo un po' più nel dettaglio di cosa si tratta in termini di rebate però di fatto appunto ci sono dei rebate a cui i registered non hanno accesso. I partner PIRX Sales Incentive invece sono incentivi individuali di cui purtroppo l'account d'Italia non è elegibile quindi andiamo oltre. È possibile soltanto per i partner da innovator in su avere delle opportunità iniziate quindi lavorate inizialmente da un account palo alto. E altra cosa importante che secondo me è da ricordare è che i partner registered non possono subentrare a rinnovi che sono stati gestiti da altri partner in precedenza. Quindi come sappiamo noi l'incambiente di un rinnovo può essere cambiato solo su esplicita dichiarazione di un cliente finale che dichiare di voler per qualche ragione procedere con il rinnovo con un partner differente da quello da cui ha acquistato le licenze in precedenza. Questo è vero tranne che per i partner registered. Quindi i partner registered non possono subentrare sul rinnovo di qualsiasi altro partner, qualsiasi sia il suo livello. I partner registered inoltre non possono godere di fondi marketing dedicati. L'altra cosa diciamo di rilievo è che i partner registered non sono presenti all'interno del partner locator. Andiamo a vedere i requisiti. Allora, quali sono i requisiti che abbiamo per i vari livelli? Allora come abbiamo visto partner registered non ha particolari requisiti all'ingresso se non una preliminare qualifica che viene effettuata dal distributore. Quindi semplicemente si va a sondare l'interesse del partner ad investire risorse nella proposizione di Palo Alto. Per quanto riguarda i partner Innovator, Platinum e Diamond abbiamo un requirement in termini di total booking o di registration. Quindi vuol dire che una è alternativa all'altra, non sono due requisiti da rispettare contemporaneamente. Noi siamo da agosto entrati nella country set B, quindi dalla set C abbiamo fatto un upgrade alla set B, pertanto anche i valori come requirement sono aumentati. Quindi abbiamo 50.000 euro minimo di total booking o 100.000 euro di registration in pipeline per i partner Innovator, un milione di booking o 3 milioni di pipeline per i Platinum e 3 milioni di booking o 9 milioni di pipeline per i Diamond. Questi requisiti in termini di valore e di opportunità. La cosa che realmente è diversa rispetto agli anni scorsi è il requirement della product specialization. Dopo nella prossima slide ne vedremo di più il dettaglio. Si tratta ovviamente di una specializzazione che deve essere conseguita dal partner comprovando di essere particolarmente abilitato a derogare e diffondere una determinata tecnologia di Palo Alto. Queste product specialization sono una soltanto come requirement per gli Innovator, sono due per i Platinum e tre per i Diamond. Per i Diamond si aggiunge anche una service specialization CPSP che viene conseguita in seguito in realtà all'invito di Palo Alto che quindi arriva direttamente da Palo Alto a seguire determinati bootcamp, determinati corsi che possano comprovare la capacità del partner anche di erogare servizi gestiti. L'altro requirement sempre a livello di capabilities ed engagement è il numero di tecnici diciamo certificati. Abbiamo un requirement minimo per i Platinum e per i Diamond. Quindi per i Platinum questi sono tre mentre per i Diamond sono quattro system engineer come numero minimo che abbiano una certifica tecnica. Questo in realtà è già stato modificato appunto è la prima modifica che andiamo a vedere che è stata proclamata da qualche giorno fa perché la comunicazione è arrivata se non vado errato venerdì della settimana scorsa. Quindi mentre in precedenza il numero minimo di FTEs per i Platinum era di quattro persone tecniche certificate ora questo è sceso a tre e allo stesso modo per i Diamond è sceso da cinque a quattro persone tecniche certificate. Quindi una semplificazione è già stata introdotta in questa fase. Passiamo alle product specializations. Che cosa sono? Le product specializations come detto sono delle certificazioni che il partner deve andare a conseguire su una particolare tecnologia erogata da palo alto. Quindi le product specializations conseguibili sono sei al massimo. Una per ciascuna di queste colonne che vedete in questa tabella. Quindi abbiamo la product specialization per l'hardware firewall la product specialization per il software firewall quella per Prisma Sasi quella per Prisma Cloud quella per Cortex XDR e quella per Cortex XOR come detto appunto il requirement per essere innovator è di conseguire almeno una di queste sei product specializations due invece per quanto riguarda i Platinum e tre per quanto riguarda i Diamond. senza entrare nel dettaglio delle certificazioni su cui poi parlerà Roberto possiamo intanto però vedere che c'è una parte di requirement sales quindi a livello di commerciale sono gratis e online e poche ore di corso per poter conseguire la certificazione le technical pre-sales invece prevedono una certificazione da ottenere con esame in person view e conseguente e preliminare acquisto del relativo voucher e le technical post sales che sono quelle invece più di livello un po' più avanzato e sicuramente più tecnico anche queste che prevedono esame in person view con acquisto di voucher e su queste è fortemente consigliato seguire dei corsi ad hoc per il conseguimento della certificazione su questo poi spenderà più parole Roberto possiamo vedere anche qui la seconda grande novità che forse è anche quella più saliente che per l'hardware firewall non è più mandatorio il conseguimento di una technical post sales quindi di fatto per conseguire la specialization hardware firewall è sufficiente avere due persone certificate in ambito sales e una technical pre-sales con la PSE per esempio la strata professional per quanto riguarda l'hardware firewall questo a livello di certificazione tecnica quindi sono i requerent minimi per avere la specialization come hardware firewall e che per esempio può permettere quindi di essere e di mantenere lo stato di innovatore per quanto riguarda i software firewall rimane invece obbligatoria una technical post sales ma si è aggiunta anche la PCNSA mentre prima era necessaria per forza la PCNSE quindi questa è una nuova alternativa sicuramente molto più agevole da conseguire che il partner può percorrere per raggiungere la specialization per il software firewall oltre a questa parte di certificazione per arrivare a ottenere la specialization è necessario raggiungere un numero minimo di 20 engagement points entro la fine dell'anno cosa sono gli engagement points? ve lo dirà Roberto tra poco sappiate per il momento che si tratta di punti che vengono raggiunti conseguiti con l'esecuzione di determinate attività sui clienti finali gli engagement points da 20 che era il requirement entro l'anno in realtà si sono già ridotti a 15 perché 5 sono stati dati come dire in omaggio per ciascuna specialization quindi di fatto quelli rimanenti da conseguire sono 15 punti guardiamo invece qualcosa in più ora sull'aspetto dei rebate questi sono i rebate che si ottengono e come dire benefit in generale in realtà che si ottengono conseguendo una product specialization a seconda della product specialization chiaramente ci sarà la possibilità di ottenere queste agevolazioni su quella specifica tecnologia quindi andando a vedere le voci diciamo di più di più interesse abbiamo la specialization rebate che è proprio un vero e proprio rebate che voi come partner ottenete vendendo la soluzione sulla quale vi siete specializzati avete ottenuto la relativa specialization quindi 2% per esempio di rebate per l'hardware firewall e 5% per tutte le altre abbiamo una scontistica per quanto riguarda le tecnologie che vogliono essere acquistate per uso interno da parte del partner quindi non NFR ma uso proprio interno e in quel caso ovviamente sulla relativa tecnologia c'è una scontistica se raggiunta la specialization c'è un extra anche per fondamentalmente per i deal su Prisma Cloud viene anche sbloccata diciamo la possibilità non soltanto di avere un enablement tecnico ma anche quella di ottenere dei fondi co-marketing da poter spendere su quella determinata tecnologia quindi i benefit della specialization non sono solamente perché sono requirement per raggiungere il livello di partnership ma anche per esempio per partner che non raggiungessero il livello di partnership per via del booking o della pipeline se hanno raggiunto la specialization godono comunque di questi incentivi andando a vedere ancora appunto i rebate in ambito più vasto abbiamo i rebate expertise dove ci sono il 2% di specialization e il 5% di specialization che sono quelli che abbiamo visto nella slide precedente abbiamo il 2% di proficiency che è come dire realtà prerottiva degli acquisti dei servizi della unit 42 di palo alto e il 5% di proficiency per l'acquisto e quindi vendita di tecnologie 5G che siano diciamo tra le tecnologie firewall che quelle SASE queste appunto sono rebate che si possono ottenere nel momento in cui c'è una si è conseguita una product specialization per quanto riguarda le opportunity rebate invece queste sono prerogativa solamente dei partner dai innovatori in su quindi qua ci deve essere un livello di partnership comprovato e raggiunto abbiamo un rebate del 2% per tutti i clienti nuovi che possano essere portati dal partner e il 2% tech lift praticamente è un 2% che si va appunto ad aggiungere agli altri rebate nel momento in cui l'opportunità è stata iniziata con un'attività del partner quale per esempio un SLR o una customer evaluation quindi sono attività che tra l'altro dopo vediamo fanno raggiungere fanno ottenere degli engagement point e di cui Roberto appunto vi farà vedere qualcosa in più che possono aiutare in realtà a sondare le necessità del cliente finale per poi andare a proporre eventualmente un upgrade o un'eventuale soluzione aggiuntiva da qui appunto il rebate che regala Palo Alto in queste slide vedete nelle parti sotto che ci sono appunto dei link per avere maggiori informazioni che vi mandano a dei file e dei documenti di Palo Alto dove appunto potete avere maggiori dettagli sia sulla parte di rebate che sulla parte per esempio degli engagement point detto questo io lascerei la condivisione schermo a Roberto che entrerà un po' più nel dettaglio sulla parte delle tecnologie delle certificazioni da ottenere e appunto degli engagement point che sono uno dei punti più ostici di questo nuovo partner program eccomi qua allora condividiamo si vede tutto Flore? Yes sì molto bene allora parliamo di certificazioni cioè tutte quelle che erano scritte in quella slide anzi facciamo così in questa slide tutte le certificazioni che sono necessarie per ottenere una product specialization quindi fondamentalmente per riempire la colonna desiderata cominciamo da quelle sales l'ha accennato Lorenzo ci sono certificazioni sales product specialist per tutte le specialization la buona notizia che è tutto online sul portale beacon beacon.palualtonetworks.com i corsi sono online è obbligatorio seguirli perché se no non si accede all'esame l'effort va dalle due ore per l'hardware firewall alle sei ore per la parte cortex e poi c'è l'esame sempre online sempre sul portale beacon.com per quanto riguarda invece le PSE le PSE sono obbligatorie per tutte le specialization PSE vuol dire Palo Alto Network System Engineer ci sono fondamentalmente tre livelli il primo io lo chiamerei livello zero perché è proprio facile facile ci sono quindi il foundation ci sono dei corsi online e l'esame online c'è il livello associate ci sono dei corsi online che sono sia obbligatori che opzionali a seconda della product specialization più l'esame online quindi diventare PSE associate è relativamente semplice mentre invece per ottenere la PSE professional che è quella mandatoria per la product specialization su beacon esiste una study guide che è piuttosto dettagliata e piuttosto ben fatta ma poi l'esame non è online su beacon ma deve essere fatto deve essere sostenuto in un centro Pearson VUE tipo giusto per non fare nomi Palo Exclusive Networks per quanto riguarda le certificazioni post sale allora abbiamo scoperto dalla settimana scorsa che la PCNSE che prima era obbligatoria anche per la parte hardware firewall invece è diventata recommended per la parte hardware firewall mentre invece rimane mandatory per la parte software firewall anche se è una delle alternative perché per fortuna c'è tra queste alternative anche la PCNSA per la parte software firewall perché dico per fortuna perché la PCNSA è decisamente più semplice come esame da sostenere rispetto alla PCNSE ma la PCNSA deve essere comunque data in un centro Pearson VUE ad esempio Exclusive Networks per conseguire la PCNSA ma fondamentalmente i corsi che non sono obbligatori ma sono fortemente consigliati sono il 210 e il 220 quindi quello sul firewall fundamentals e sulla console di gestione panorama se invece si vuole ottenere la PCNSE è fortemente consigliato seguire anche il corso 330 quello di troubleshooting sull'ambiente di network security di Palo Alto Networks dopodiché andiamo avanti con le altre prod specialization rimaniamo in ambito software firewall abbiamo detto che esiste la possibilità di ottenere la certificazione PCNSA prima che PCNSE ma esiste anche un'altra certificazione che è fatta apposta per la parte software firewall che si chiama PCSFE cioè software firewall engineer anche in questo caso i tre corsi sono fortemente consigliati anche in questo caso trovate dei corsi online che sono opzionali su Beacon trovate una study guide su Beacon ma poi l'esame è da dare in un centro Pearson Vue discorso un pochettino a parte per la PCNSC perché è una certificazione riservata solo ed esclusivamente ai CPSP qui oggi facciamo un'indigestione di acronimi cioè i Certified Professional Services Partner e per ottenere la PCNSC tra l'altro bisogna partecipare a un CSL un Customer Simulation Lab cioè un workshop a cui si accede fondamentalmente solamente per invito di Palo Alto Network che quindi riserva questo invito a quei partner che sono già Certified Professional Services Partner procediamo con le Produce Specialization ci siamo lasciati alle spalle le due gialle cioè Hardware Firewall e Software Firewall e passiamo a quelle azzurre cioè Mondo Prisma la sicurezza del Cloud Allora la prima certifica che si può anzi le prime certifiche che si possono ottenere sono per il mondo e quindi per la Specialization Prisma SASE e sono due cosiddette micro certification la PMR U A U sta per User PMR N A N sta per Network ci sono dei corsi online che sono obbligatori c'è un corso in aula in aula nel senso che potrebbe anche essere un'aula virtuale quindi online che è il Ledu 318 sono recommendi delle certifiche PCNSA e PCNSA e poi però l'esame è online su Beacon quindi bene abbastanza facile veniamo invece alla quarta colonna quindi sempre ambiente Prisma ma Prisma Cloud esiste una certificazione che si chiama PCCSE Prisma Certified Cloud Security Engineer su Beacon trovate la Study Guide su Beacon trovate dei corsi online che sono opzionali e io ho scritto tra parentesi tantissimi perché sono veramente tantissimi cioè sono una roba tipo una ventina di corsi per fortuna sono optional ma l'esame poi finale è da dare in un centro Pearson View mentre invece passiamo alle ultime due colonne cioè quelle relative al mondo Cortex la prima è Cortex XDR esiste una certifica che si chiama PCDRA cioè Detection and Remediation Analyst esiste su Beacon una Study Guide ci sono dei corsi online che sono required è consigliato non è obbligatorio partecipare ai corsi edu 260 edu 262 e poi si può accedere si può effettuare l'esame che però deve essere fatto in un centro Pearson View l'ho già detto che potrebbe essere un'ottima scelta quello di farlo in exclusive networks no non l'avevi ancora detto Robby però secondo me fai bene meno male che l'ho detto altra possibilità per Cortex XDR sono le due micro PMXDS e PMXDC che però di nuovo sono per i CPSP quindi Certified Professional Services Partner mentre invece ultima colonna quella di Cortex XSOAR Cortex XSOAR ha fondamentalmente due possibilità che sono la PCSAE che è una certifica da conseguire leggendosi la Study Guide su Beacon seguendo i corsi online che sono optional e dando poi l'esame nel centro Pearson View oppure la PMXRC che di nuovo ci mettiamo un bel asterisco perché è solo ed esclusivamente per i CPSP quindi Certified Professional Services Partner c'è anche un corso required che è l'edu 380 ma l'esame online però tanto è solo per i CPSP e quindi è per una fascia anzi è per una nicchia dato che adesso va molto di moda dire nicchia poi se vi ricordate in quella fantastica slide che poi era questa qua in ogni colonna oltre a dover riempire il fatto di avere due sales certificati un tecnico certificato PSE sto facendo l'esempio hardware firewall perché è quello più facile questa parte qua è diventata recommended quindi ma tutto sommato a me servono due persone che prendano la certificazione sales una persona che prende la certifica PSE strata professional e però e però ci sono questi 20 engagement point questi 20 engagement point devono essere ottenuti e poi mantenuti entro la fine del fiscal year di Palo Alto Network che è il 31 luglio 2024 e poi devono essere mantenuti per tutto l'anno cosa vuol dire mantenuti vuol dire che questi engagement point fondamentalmente durano 12 mesi come i punti della classifica TP del tennis insomma per cui il consiglio è quello di averne sempre un po' più di 20 perché è chiaro che nel momento in cui un paio di punti dovessero scadervi scendete a 18 non siete più compliant quindi conviene sempre averne una trentina come i punti della patente la grossa novità ve l'ho evidenziata nel modo più chiaro possibile una di queste attività che fino alla settimana scorsa garantivano due engagement point adesso invece è diventata un'attività da quattro quindi ogni volta che fate un ultimate test drive guadagnate quattro engagement point naturalmente l'ultimate test drive è l'attività più complicata da fare ci mancherebbe notate anche che a fianco di ogni attività ci sono i colori che si riferiscono ovviamente alle product specialization quindi attenzione perché fare un partner eval system poi dopo andiamo a vedere cosa vuol dire fare una eval vale due punti e la potete fare per tutte e sei le product specialization mentre invece quella che una volta si chiamava BPA best practice assessment e che adesso tra l'altro continua a chiamarsi BPA ma si fa da un posto da un portale nuovo cioè da AI OPS for next generation firewall free per fortuna vale solo ed esclusivamente per le product specialization gialle cioè hardware firewall e software firewall così come la SLR vale solamente per hardware firewall software firewall e SASE Prisma SASE quindi attenzione vabbè ma tutte queste bellissime attività che si possono fare come diavolo si fanno allora spengo un attimo le slide e vi do un'idea di quello che sostanzialmente bisogna fare allora siamo su next wave partner portal ok siamo qua andando e quindi bisogna avere l'accesso come minimo a next wave partner portal ma tutti i partner ce l'hanno ci mancherebbe dopo di che si va un po' più in giù e si clicca su partner relationship management anche in questo caso tutti i partner dovrebbero avere accesso al loro partner relationship management controllate se ce l'avete questo accesso perché non è sempre automatico ogni tanto bisogna dare un ping a palo alto perché non sempre il single sign on funziona alla perfezione la prima cosa che vi faccio vedere è che nel menu my company compliance avete la possibilità di andare a vedere vediamo se trovo l'italia sì l'ho trovata sì ma non volevo cliccare su google maps specialization compliance scusate ok qui avete la possibilità di andare a vedere qual è la vostra situazione nei confronti delle varie specialization quindi qua scopriamo che exclusive networks italy dal punto di vista hardware firewall è compliant perché è compliant perché ci sono almeno due sales perché c'è almeno un technical pre-sale poi qua c'era ancora l'obbligo di avere il technical pre-sale quindi c'è almeno un pcnse o pcnsc hanno aggiunto recommended quindi l'hanno aggiornata perfetto e ci sono sono stati guadagnati almeno 20 engagement point non vi spaventate di questi numeri perché questo si riferisce a exclusive networks EMEA dal punto di vista dei numeri quindi non vi non vi spaventate del fatto che ci siano ben 838 engagement point mentre invece per quanto riguarda il come si ottengono questi famosi engagement point allora andate nella parte opportunity management e cercate tutte le opportunity che avete aperto di recente ne scegliete una quindi sostanzialmente scegliete il cliente finale l'end user su cui avete aperto l'opportunity e come per magia qua in alto a destra cliccate su questa bellissima frecciolina e vedete che avete tre di quelle attività che valgono gli engagement point in particolare la eval request e la generate slr report mentre invece se cliccate su generate bpa report la cosa non funziona particolarmente per fare il bpa bisogna fare in un'altra maniera cliccando su eval request vi apre un form in cui andate a selezionare vedete una customer eval andate a selezionare il customer support portal account di riferimento dell'end user dopodiché potete andare a selezionare come eval product sostanzialmente dei software firewall quindi fondamentalmente delle virtual machine piuttosto che degli firewall hardware 220 850 e 3020 piuttosto che qualcune soluzioni di tipo nell'ambito prisma e cortex in particolare cortex xtr compilate tutto quello che c'è da compilare e alla fine sottomettete salvate questa eval request nel momento in cui la salvate siccome è legata a un'opportunità e quindi a un end user a un cliente finale automaticamente vi vengono accreditati i due engagement point relativi naturalmente questo si può fare per ciascuno dei vostri end user ogni end user due punti due engagement point oppure oppure torniamo qua generate slr report anche in questo caso c'è un form da compilare quindi la region è europe la country è vediamo se esiste l'italia si esiste fantastico scegliete dove sta il firewall di cui volete fare l'SLR che cos'è l'SLR security life cycle review è un report relativo allo stato di salute fondamentalmente di un firewall quindi nel momento in cui cliccate su generate report questa security life cycle review è stata salvata e quindi avete i due punti ma se proprio volete veramente creare questo report per farlo vedere al vostro inducer allora la strada è ancora un filino più lunga perché bisogna cliccare su view report e riempire ancora un po' di campi ve lo faccio vedere perché al netto di questa roba qui poi per generare veramente il report slr bisogna andare a recuperare dal firewall dell'end user lo stats dump file che è un file che viene generato direttamente dalla console di gestione del singolo firewall quindi dalla web UI di ogni singolo firewall nella parte device support andate a generare questo stats dump file il firewall lo genera vi consente di scaricarlo una volta che l'avete scaricato sul vostro pc barra mac andate a uploadarlo qua sopra e così finalmente vi vi fa vedere ottenete questo report che tra l'altro è una cosa anche molto utile da fare con i vostri end user sia l'SLR report che il BPA il best practice assessment sono cosettine che è bene imparare a fare in maniera quasi automatica quindi nel momento in cui avete generato un'opportunità su un end user ma una delle prime cose da fare è scusate oltre a generare un'opportunità e avere installato dei firewall in campo una delle prime cose da fare sicuramente è andare a generare su questi firewall lo stats done file e il tech support file perché lo stats done file vi serve per l'SLR e il tech support file vi serve per il BPA best practice assessment allora abbiamo detto sto benedetto BPA sto benedetto BPA se cliccate qua nella famosa freccettina non ottenete granché per fare il BPA fondamentalmente bisogna partire dal support portal dal support portal voi partner tra le risorse sicuramente c'è il vostro bellissimo hub nell'hub se non l'avete installato installatelo c'è AI OPS for next generation firewall free che è questa roba qua se ci cliccate sopra vi apre questo portale che è AI OPS for next generation firewall free per gli amici AI OPS se no e vedete che qua vi trovate subito on demand BPA generate new BPA report e qua andate a caricare il tech support file che avete ottenuto dal firewall del vostro end user però attenzione perché se il file è ottenuto dal firewall del vostro end user invece l'ambiente AI OPS for next generation firewall free deve essere il vostro quello di voi partner ok tutto chiaro fin qua bene ancora due parole allora su quelle cose che abbiamo detto prima che valgono quattro punti ma sono anche quelle un pochettino più complicate sempre sul next wave partner portal nella parte sales and technical eccoli qua avete tutta una parte dedicata agli ultimate test drive cosa sono gli ultimate test drive sono fondamentalmente una mezza giornata molto tecnica che voi partner potete organizzare con i vostri end user esiste già tutto fatto su questo portale in cui avete la overview guide e la possibilità di schedulare un lab quindi chiedete a Palo Alto Network di aprirvi un ambiente virtuale su cloud share su cui potete andare a far lavorare i vostri end user far lavorare i vostri end user perché gli ultimate test drive sono su tutte queste tutti questi argomenti quindi vedete c'è quello sul firewall c'è quello su panorama c'è quello su tutto il portfolio di cyber security c'è quello su sasi c'è quello su sd1 c'è quello sui cloud delivered security services c'è quello su next generation firewall sull'ambiente amazon web services insomma ce ne sono diversi per ognuno di questi avete la vostra workshop guide e avete anche tutte le presentation e risorse marketing per promuovere questo evento nella workshop guide fondamentalmente c'è scritto tutto c'è scritto tutto nel senso che rispetto a quel lab che avete che vi siete fatti aprire da palo alto in ambiente cloud share ci sono poi tutta una serie di attività da far fare ai vostri end user hands on quindi con le mani in pasta sull'ambiente virtuale cloud share e di attività ce ne sono questo è quello hardware firewall ma insomma ce ne sono ce ne sono parecchie vedete ce ne sono addirittura 12 quindi fondamentalmente si tratta di organizzare questo evento possibilmente in presenza ma anche online in cui fate vedere delle slide che sono sempre fornite da palo alto quindi non dovete inventarvi nulla fate vedere queste slide per presentare l'argomento e dopodiché date l'accesso ai vari laboratori a ciascuno dei partecipanti e tramite questa workshop guide loro svolgono tutte queste attività direttamente sul sull'ambiente che si sta testando quindi in questo caso sul sul firewall sull'hardware firewall allora siccome sono le 11 e 46 io direi che posso smetterla di tediarvi con queste robe e passare la parola a Paola che vi racconta dato che vi ho detto 150 volte che gli esami si possono dare in un centro Pearson Vue ad esempio exclusive networks ecco adesso Paola vi racconta esattamente perché exclusive networks grazie Roby grazie per la tua spiegazione sei stato molto dettagliato e preciso come sempre allora innanzitutto rinnovo il mio buongiorno esclusive oltre ad essere un distributore di prodotti palo alto ovviamente è soprattutto un distributore a valore aggiunto il valore aggiunto è rappresentato dal fatto che appunto esclusive può essere ed è il vostro partner di eccellenza per la formazione palo alto perché esclusive è un authorized training partner di palo alto da oltre dieci anni perché scegliere il nostro centro di formazione perché innanzitutto appunto la nostra missione è quella di fornire a tutti voi partner una formazione di alta qualità e lo facciamo attraverso trainer come Roberto Maina che vi ha dato un breve saggio delle sue competenze ed è il nostro trainer principale per tutti i corsi palo alto che noi eroghiamo in lingua italiana lo facciamo durante percorsi formativi che accompagnano gli studenti quindi tecnici ad acquisire tutte quelle competenze che sono necessarie per gestire la tecnologia e soprattutto per arrivare all'obiettivo parlando di partner program soprattutto dell'ottenimento della certificazione i corsi vengono erogati in lingua italiana lo ripeto sono fruibili tramite una piattaforma di erogazione come appunto go to webinar go to training vengono strutturati con una parte teorica che è appunto l'individuazione di quelle parti del manuale che lo studente deve assolutamente acquisire per poter diciamo così poi superare gli esami di certificazione una parte pratica con l'accesso ai laboratori virtuali che sono appunto ambienti nei quali lo studente mette in pratica quanto ha appreso a livello teorico se torniamo un attimo alla slide prima scusami Roby è solo perché ecco perché fare appunto i corsi e i training palo alto innanzitutto perché ottenere le certificazioni palo alto è un riconoscimento di una certificazione a livello internazionale perché ve lo chiede direttamente palo alto soprattutto per poter rimanere compliant perché l'acquisizione delle competenze è necessaria in un ambiente come il nostro dove diciamo così oggi rappresenta già ieri quindi i tecnici devono essere puntualmente formati e in grado di affrontare quelle che sono le richieste del mercato pertanto l'obiettivo di esclusiva è quello appunto di creare dei professionisti preparati che mettano in pratica ciò che imparano all'interno dei nostri corsi la proposta formativa di esclusive per quanto riguarda palo alto è una proposta formativa molto ampia abbiamo già nominato i tre principali corsi che vi aiutano ad ottenere quelle che sono le certificazioni precipue del partner program sono le 2.10 le 2.20 le 2.3.30 che sono corsi che noi tendenzialmente eroghiamo quasi mensilmente tra l'altro nelle sessioni previste per maggio ci sono delle promo molto interessanti per cui se avete bisogno sono a vostra disposizione un accento particolare però vorrei porlo su quelli che sono i corsi custom che noi abbiamo messo a portafoglio quest'anno partirei dall'intensive training che è un corso che va a compendiare in cinque giorni i due corsi principali di palo alto che sono le 2.10 sulla gestione e configurazione del firewall palo alto e le 2.20 sulla gestione della console panorama ecco questi due corsi ufficiali sono esattamente prevedono cinque giorni per le 2.10 e due giorni per le 2.20 noi abbiamo deciso di rispondere a molti di quelle che sono le vostre esigenze cioè che purtroppo privarsi di una risorsa per 7 giorni con seducutivi potrebbe essere un problema per cui siamo riusciti grazie giustamente alle competenze e alle capacità di Roberto Maina a declinare questi due corsi in un unico corso che vi occuperà praticamente cinque giornate e alla fine di questo corso potrete in maniera molto più pronta affrontare sia l'esame di certificazione PCNSA che l'esame di certificazione PCNSA abbiamo messo a programma anche un mini bootcamp di 4 ore per potervi supportare per l'ottenimento ormai dei soli più 15 punti perché 5 finalmente ha deciso di regalarceli palo alto inoltre tutti i corsi di cui eventualmente voi potreste aver bisogno ricordo che possono essere erogati se non direttamente dalla nostra country in Italia dai nostri colleghi UK comunque la nostra piattaforma che è Exclusive Training Center se volete consultarla potete trovare tutto il calendario completo di quelli che sono i nostri corsi a programma come ha sottolineato più volte invece Roberto noi oltre ad essere un centro di formazione ufficiale palo alto siamo anche un centro Pearson VUE questo vuol dire che tutti gli esami di certificazione potete venirli a sostenere presso i nostri presso il nostro centro mensilmente apriamo il nostro centro nelle sedi di di mercato o nelle sedi di San Mauro è sufficiente che mi contattiate possiamo organizzare una sessione nel caso in cui aveste più persone che hanno bisogno di sostenere l'esame di certificazione siamo anche disponibili a portare il nostro centro Pearson VUE direttamente da voi possiamo organizzare una sessione privata ripeto siamo fortemente disponibili sia per quanto riguarda gli esami di certificazione sia eventualmente anche la possibilità di creare una formazione customizzata in base alle vostre esigenze Roberto Main a Lorenzo e io siamo comunque a vostra disposizione per affrontare e declinare qualunque tipo di esigenza formativa io direi che sono stata velocissima passerei nuovamente la parola a Lorenzo per ricordare i prossimi appuntamenti con noi e vi ringrazio grazie grazie Paola sì cogliamo l'occasione in questi ultimi minuti allora in realtà anticipo di fatto quella che era una domanda che è stata fatta poi se c'è qualcosa altra vi invito a scrivere anche in questi ultimi minuti chiarimento quando parliamo di anno fiscale palo alto parliamo da agosto 2000 in questo caso 2023 a luglio 2024 quindi in questo caso i tempi per essere compliant con i requisiti di partnership è luglio quindi adesso mancano c'è ancora tempo ma insomma sono relativamente pochi mesi fortunatamente appunto come abbiamo detto si sono semplificati i requirement per conseguire le specialization però appunto tempo fino a luglio 2024 dopodiché appunto da agosto si stilerà chi per l'anno seguente di palo alto sarà ancora partner innovator diamond platinum e via dicendo e chi invece chi invece magari perderà diciamo il livello di partnership per quanto tornando agli eventi allora vediamo consigliato il 24 aprile facciamo una demo live di prisma access quindi altra soluzione in ambito sase la terra il nostro sistema ingegnere valerio brusa molto molto interessante anche perché vedrete che avrete la possibilità se vorrete di richiederci l'accesso dalla nostra licenza per poterla testare per poter magari fare a vostra volta una demo sui vostri clienti l'otto maggio Roberto terrà un webinar dedicato al sistema operativo dei firewall palo alto nell'ultima release che è Cosmos quindi PanOS 11.1 e sottolineo l'evento che invece sarà in presenza a Milano il 16 maggio in cui appunto presenteremo sia ancora le feature di Cosmos ma di nuovo due parole sul partner program il vero plus sarà che sarà una mattinata più pranzo sarà presso delle sale all'interno del building dove ci sono gli uffici palo alto quindi ci sarà la possibilità di incontrare diverse persone del team palo alto ottima opportunità per parlare anche con loro di business e appunto creare fare quel po' di networking che aiuta sempre per lo sviluppo dell'opportunità quindi interessante sicuramente per tutto quello che vi racconteremo tecnologie partner program strategie di palo alto e anche per poter incontrare appunto il vendor personalmente quindi questi sono gli eventi nell'ultima slide poi troverete slide che vi condivideremo troverete i nostri riferimenti per qualsiasi altra domanda ecco un'altra domanda che è stata fatta è possibile che sia la stessa persona certificarsi sia sulle certificazioni sales che tecniche assolutamente sì nel senso che non c'è nessun vincolo che le persone siano differenti purché ovviamente laddove c'è la necessità di due certificazioni sales lì venga conseguita ovviamente da due persone differenti però la stessa persona può prendere una sales una post sales assolutamente senza problemi un'altra cosa che c'è stata chiesta è dove posso acquistare i voucher per gli esami in person view li potete acquistare sul sito person view giusto giusto paola sì esattamente potete acquistare direttamente sul sito person view oppure eventualmente acquistare sul sito person view nel nostro admin nel momento in cui venite a dare l'esame ottimo perfetto aggiungo però anche quest'altra informazione che è arrivata ma che magari è stata migliorata è che Palo Alto ha messo anche a disposizione dei voucher gratuitamente facendo una richiesta via mail a Next Wave Next Giant sì esatto quindi la possibilità per un numero limitato di certificazione per ciascun partner e anche per singolo tecnico però mandando c'è un tempo limitato c'è bisogna comunque rispondere entro un termine altrimenti non si riesce a riscattare quel voucher esatto esattamente quindi diciamo che affrettatevi c'è questa mail inviata appunto da Next Wave di Palo Alto sicuramente nella vostra posta è anche quella un'opportunità per per poter appunto dare l'esame e avere anche un piccolo risparmio con questo vedo che non ci sono altre domande quindi noi possiamo concludere ringrazio ancora Paola e Roberto grazie ragazzi grazie Lorenzo grazie a tutti grazie a tutti per aver partecipato e allora ci vediamo al prossimo webinar ai prossimi eventi Palo Alto ancora un saluto a tutti ciao a tutti ciao ciao